E benvenuti ragazzi, io sono CD17 e oggi vi do il benissimo episodio di Fortnite Ok ragazzi, bentornati su questo titolo ragazzi Dopo aver parlato l'ultima volta, c'è un po' l'incolorato, attiva in Fortnite Oggi, semplice di prendere questa cosa qua, del 19 ottobre Leggiamo i mostri succediti dalle carte di Fortnite dell'incubo Alcune cose ragazze magari ci saranno già lette, ma fa niente, è meglio se vincerle Tarocchi dei mostri e delle catture di Halloween in arrivo sul negozio Getty, domenica 21 30 a 10, domenica 21, dal team di Fortnite Fortnite e Link, domenica 21, sei nell'arrivo sul negozio di molti costumi nuovi e passati Inclusi alcuni modi leggendari a loro debutto su Fortnite Arriveranno anche i personaggi classici di Forte, con un tocco di Halloween Così più forte come il 21 è quello che è del 5-10 Tieni doc questo spazio per scoprire quale costumi di Halloween nuovi e di ritorno Stegheranno il negozio Getty, questo mese di ottobre Ad ogni nuovo arrivo verrà votata una carta di Tarocchi e potrai studiare il rosso di quelle coperte per rinnovare i prossimi arrivi Settimana 4, 26-30 ottobre Quindi, ok A settimana 4, l'ultima settimana delle carte di Tarocchi sta arrivando Come sempre non c'è modo di sapere quando verranno girati Ma prova a usare gli inizi per poter dare a luce ciò che succede Aggiornamento 30 ottobre alle 2 ore italiane L'amore di Frankenstein Entra nella squadra dei leggendari mostri Universal L'ultimo inconfondibile mostro a fare il suo debutto in Fortale questo mese La moglie entra in battaglia rinimata e reinventata Con questa isola incappucciandoti con lo stile freddo di questo costume Ed ecco scoperti tutti i Tarocchi Grazie per averci seguito questo mese E buon divertimento con il resto di Fortale Link 21 Ragazzi, ok Ragazzi, su queste cose qua che adesso leggerò Sicuramente, sì E sono indietro, ma ragazzi Ve le leggo Solo per non fare il voleto un po' corto Perché ci vuole Che è successo? Vabbè Ve le leggo lo stesso Anche se è cosa passata 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 Aggiornamento 21 ottobre alle 2 ore italiane La stella di Fortale Link 21 Quindi è Ok Il suo effetto Il suo effetto ombra cresce a ogni eliminazione Possiede anche l'abilità tocco ombra Applica una copertura ombra a ogni arma equipaggiata Qua settimana rimane una sola carta L'ultima ancora da scoprire in Fortale Link 21 Aggiornamento 27 ottobre alle 2 ore italiana Con il set senza limite Hai creato i tuoi supereroi Ma ora può creare la Tua forza zombie Con il set eroi caduti Con il set eroi caduti In condizioni Supereroi zombie personalizzabili Questa settimana rimangono due carte Poi Settemana 3 19 e 25 ottobre E' la settimana 3 E ci sono 5 Tarocchi da girare Non c'è modo di sapere quando vengono girati Ma una Una Uso studia Il luce per scoprire cosa ci potrà Cosa ci potrà fuori Niente Questo questo Non lo leggo Ok E niente E' assoluto E' assoluto L'entrivi Questo qua Da 26 al 8 ottobre 5 all'11 E niente Niente ragazzi E' ho letto Che rimangono Ah Ok Quindi Fima un po' Cosa Cosa qua Quindi tutto qua E ragazzi Come sempre Io spero che questo video vi sia piaciuto Se il video è piaciuto Mi raccomando Mi raccomando Un bel Biosi Commentate Condividete Il seguito del canale Attivate la campanina Attivate la campanina E ragazzi Un bacio Nella vostra Cd G7 E' tutto Bene ragazzuoli Ciao Ciao